Uno c'è un po' di italiano, dovrebbero essere i due equipaggi della Sportivo Urania, condurre a meno quanto guarda, dovrebbe essere Moscatelli e Riana che conduce questa finale, però c'è anche l'equipaggio dell'Aurora che rimonta Elisa, con un po' d'onda creata dai motoscaffi che abbiamo visto passare prima, ma è l'Arianna della Sportivo Urania che conduce incrementando i colpi la sua finale, seguita dalla compagna di canottieri Elisa, Dioguardi e poi alla l'Arianna della Sportivo Urania, con uno, prisione insana, i primi tre posti li abbiamo visti.